ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario mobile art informazioni commerciali titolare passione profession s as di dintrono simona e compagni concessionario passione profession s as di dintrono simona e compagni confezioni mobile art 60 compresse formulazione glucosamina 300 mg condroitin solfato 200 mg msm 350 mg perna canaliculus 250 mg vit c 250 mg acido ialuronico 20 mg vit e 25 ui selenio 50 mcg omega 3 50 mg acido alfa lipoico 20 mg indicazioni protegge e rinforza le articolazioni dei cuccioli di razze predisposte alle malattie ortopediche fonte di artrosi esempio displasia articolari osteocondrosi trova utile impiego anche nei soggetti adulti sottoposti a intenso carico articolare stress eccessivo cani sportivi cani da lavoro cani in sovrappeso e nei soggetti anziani con ridotta capacità di mobilità articolare mobile art accelera il processo di riparazione dei tessuti e delle articolazioni deteriorate svolge un effetto riparatore dei legamenti dei tendini e della cartilagine e può essere impiegato a seguito di chirurgia articolare il suo impiego costante riducendo l'infiammazione aiuta a ripristinare le funzioni delle articolazioni fornendo un importante sollievo in caso di tendiniti compressione delle vertebre cervicali e in presenza di dolori articolari negli animali in età avanzata posologia 0 10 kg uguale e 1 compressa 10 20 kg 2 compresse 20 40 kg uguale 3 compresse piadi 40 kg uguale 4 compresse somministrare ai cani quotidianamente per 60 giorni secondo il peso e ripetere la somministrazione 2 3 volte all'anno secondo il parere del veterinario le compresse possono essere date in un'unica somministrazione giornaliera e un mangime complementare raccomandato per prevenire e curare problemi articolari il condroitin solfato e la glucosamina aiutano a rallentare la degenerazione articolare la somministrazione può essere variata secondo il parere del veterinario fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato al prossimo episodio